Iniziato l'ultimo stralcio dei lavori al vecchio Palace di Viale dei Partigiani a Pesaro. Le ditte locali che si sono giudicate in via definitiva all'appalto per terminare gli interventi di ristrutturazione sono già all'opera e la struttura sarà definitivamente agibile per Pesaro Capitale della Cultura 2024. Il Palazzetto dello Sport è sicuramente un'opera simbolo, identitaria per tanti pesaresi, è il luogo delle mille battaglie al tempo della vecchia Scavolini ma è un luogo che sarà anche un contenitore importante in funzione di Pesaro Capitale della Cultura quindi non soltanto per iniziative e eventi sportivi ma anche per spettacoli, momenti culturali così come abbiamo sviluppato e condiviso anche con Corroff stesso ad esempio. Un cantiere da 3 milioni e mezzo di euro che è ripartito, è ripartita la scorsa settimana con un nuovo appalto aggiudicato ad Unati, un'associazione temporale di imprese composta da tre ditte del territorio, tutte della provincia di Pesaro Urbino e su cui c'è grande attenzione da parte dell'amministrazione tant'è che la stessa direzione lavori in questa prima fase è assegnata al dirigente del servizio per le pubbliche che ci vede in prima linea per concludere un intervento importante come dicevo per la città ma anche per portarsi dietro anche quel rilancio di tutta quella zona che è un'area di collegamento tra il centro storico e il mare e che quindi poi si porterà dietro anche un momento di motore, di sviluppo economico di una zona importante per la città. Grazie.